La Dricesta sempre in prima fila per eventi importanti, significativi come quello di oggi. Fine del resto, Carla Panzino, come sempre, assolutamente nobile. Sì, fine è sempre nobile perché la nostra attività è proprio quella di camminare a fianco degli ospedali. Era importante in questo momento essere vicino all'oncologia. Oggi abbiamo finalmente consegnato ufficialmente un ecografo che era necessario al reparto, però avevamo qualche difficoltà, obiettivamente è un periodo molto particolare per la raccolta fondi. Per fortuna abbiamo trovato questo sostegno nell'associazione IORAM. Insieme abbiamo potuto realizzare questo progetto, l'acquisto di questo ecografo che, ripeto, era molto molto importante per il reparto. Abbiamo fatto la dedica toccante, anche in questo senso, a una signora che è scomparsa prematuramente due anni fa, Marastella Cipollone. Sì, Marastella Cipollone è la mamma di Dario Ricchizzi, che voglio ricordare da sei anni proprio lui ha iniziato ad essere vicino alla nostra associazione. Si è sempre prodigato anche per aiutarci a reperire i fondi. Abbiamo ritenuto opportuno dedicare questa donazione alla sua mamma, alla memoria della sua mamma, non potevamo fare altrimenti. Dario Ricchizzi è un grande artista. Ci ha regalato un momento di grande e profonda commozione. Per Dario questo cantare mamma diciamo che ha commosso tutti noi, perché chi ha ancora la mamma si è commosso, perché forse valuta la fortuna e l'importanza di averla e chi non l'ha più ha avuto un momento di commozione nel ricordo di una figura tanto importante nella vita di ognuno di noi. Lavoro poi certosino, meticoloso, degli infermieri. La Dricesta ha voluto ricordare anche questo momento perché la giornata internazionale degli infermieri, che non sono solo stati bravi in epoca pandemica, diciamo così, anche se purtroppo ci siamo ancora dentro, ma sono sempre preziosi in ogni momento. Gli infermieri sono sempre preziosi, sono sempre stati preziosi. Quello che ho ribadito più volte è che l'infermiere, come quella del medico, è una missione. Come ricorda la Tarca, salvi una vita e sei un eroe, salvi cento vite e sei un infermiere. Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, che per la vita non ti lascio mai più. Ma la canzone mia più bella. Grazie. 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 Grazie.